Martelli Rossoneri, amici rivali di Youtube, buongiorno 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 che giorno è? buon mercoledì a tutti amici, visto che i giorni sono tutti uguali per colpa di qualche pezzo di merda ok ragazzi io oggi non ho argomenti, dico la verità, oggi scusatemi a me non piace mettere benzina sul fuoco, anche se lo sto facendo ah prima cosa ragazzi iscrizione sotto link in iscrizione di Alessio del canale che parlerà anche voi, tra l'altro ieri Alessio mi ha detto ma parla anche di Milano soltanto dell'NBA, un po' ti dà fastidio se parla anche di Milano ma ci mancherebbe, devi parlare del Milan cazzo, ci mancherebbe altro quindi iscrizione al canale di Alessio sotto, vi lascio il link in basso in iscrizione portiamolo a mille, un cuoco rimasto a casa non perché non ci ha voglia di lavorare con tre bambini come tante altre persone del resto, ma perché non lo fanno lavorare che sono due cose completamente differenti io ragazzi invito, oggi ho argomenti su Milano, non ne ho, me ne frega un cazzo guarda, io devo dire quello che penso cioè aprite i giornali senti soltanto da un anno a sta parte dire sempre la solita frase abbiate pazienza, abbiate sacrifici ma avete anche rotto i coglioni cioè voi veramente non so quanto ci state pigliando per il culo perché già vi viene anche da ridere ci state pigliando per il culo abbastanza ma è una situazione che è frustrante è una situazione che è veramente snervante è da un anno che va avanti un anno cioè ragazzi state distruggendo le persone state distruggendo famiglie non ci fate fare un cazzo ci tenete in casa con questa museruola della minchia ok? così a cazzo di cane e a casa mia poi se non cercate un colpevole vuol dire che tu sei complice perché non mi hai sentito al telegiornale una volta dire di che è la colpa di questa pandemia? manco una volta l'ho sentito quindi adesso sinceramente avete anche un po' rotto i coglioni ecco perché c'è gente che sta morendo di fame e gente che cioè è a casa che è disperata ok? ci state prendendo per il culo io mi sono veramente rotto i coglioni e non sto parlando per una cosa mia economica di soldi ok? perché i soldi grazie a Dio i soldi io ce li ho grazie a Dio ok? quindi non è uno sfogo come dire che sto facendo la fame ma gente che la fa la fame ok? che va aiutata cioè voi non fate lavorare e non pagate neanche e non cercate neanche un responsabile di questa cazzo di situazione cioè è questo che mi manda in bestia e della gente li cosiete i giornali lì a guardare e li cosi a guardare che se gli dicono che sei un asino vola figa ci vedi le persone sul balcone che guardano l'asino dove cazzo anche vola cioè giocate proprio sulla debolezza della gente voi ci avete rotto il cazzo adesso e siamo stupidi noi che non scendiamo in piazza e li facciamo un culo così perché adesso avete veramente rotto i coglioni pandemia ok pandemia ma perché mi arrivano dei video dove ci sono tipo svizzera la gente che va in giro senza maschina tranquilli in Belorussia che non ha mai fermato un minuto Sherman Shake dove comunque se vanno a ballare fa che cazzo che vogliono ok non sto dicendo che non c'è perché mi è morto anche il presidente di Pupi dove giocavo io quindi comunque la pandemia c'è e tutto quanto è ma in un anno non siete stati in grado per un minuto cazzo di rinforzare le cose sanitarie di fare non avete fatto un cazzo non avete fatto l'unica cosa che fate dovete stare a casa questa è l'unica cosa che sapete fare voi tanto quanto voi i soldi li prendete quindi che cazzo me ne frega voi capito perché tanto voi i soldi li prendete ci tenete in casa non ci date spiegazioni e non pagate neanche pezzi di merda e adesso basta però cioè adesso veramente io ogni mattina ma sapete che c'ho un mal di stomaco la mattina quando uscendo giù qua cazzo che apro il telegiornale ciao sentiamo un attimino magari c'è qualche buona notizia e senti sempre le stesse cose mi avete rotto i coglioni mi avete rotto mi godete il canale vaffanculo chiudetemelo ciao a tutti